Io sono d'accordo col sindaco quando dice lì bisognerebbe metterci l'esercito magari per un certo periodo di tempo per far vedere che lo Stato c'è che c'è un presidio quando si dice che gli uffici polfer sono stati chiusi è vero è la verità, chiudere un ufficio polfer vuol dire lasciare una stazione incustodita vuol dire lasciare un tragitto un pezzo un tratto di ferrovia incustodita e quindi vuol dire che lo Stato sta facendo marcia indietro vuol dire che nel momento in cui c'è un problema adesso al Parco delle Groane domani ci sarà in stazione centrale chiudiamo la stazione centrale di Milano perché non ci sono i pendolari nel periodo in cui non ci sono i pendolari è pericoloso è molto pericoloso